in che senso allora ieri ieri oggi domani compiuto gli anni carlo verdone 70 anni ma io non è che l'abbia particolarmente tenuti in auge non è mai stato un mio regista attore del cuore mi sono dimenticato l'orologio ma se io io smemorato e io qui rammemoro il carlo da voi scordato il mio cuore scorato disinnamorato della vita ma partirei subito con una freddura in questa società che ti rifila molte fregature allora cosa dice totò principe della risata par excellence no a me disse ma sei un eunuco ma nella tua situazione è un po scabrosa allora don pasquale siamo d'accordo 100 lire al mese 100 lire al mese alloggio vita lavatura imbiancatura e alloggio vita lavatura imbiancatura e stiratura una battuta a doppio senso che all'epoca non poteva essere compresa da molte persone io non fui compreso quasi da nessuno soprattutto dei miei compagni di scuola che che ecco io dimenticare perché è proprio marinai e fui segato fui segato no mai ma da una donna sì sì perché anche le donne si seguono sì sì non solo gli uomini si segue nelle gambe quando sorracchi e poi allora un sacco bello allora merighetti merighetti vi ricordate i rocco barbaro ma lei non si vergogna a vivere così me ne foto me ne foto me ne foto e anche qua c'è doppio vero con serena dandini paolo merighetti una vecchia edizione della mostra del cinema la mostra della laguna la mostri la mostri poi glielo mostrerò il mio è mostruoso sa e lì sa che palude basta basta io sono un intrattenitore sono joker un tempo questi jolly venivano usati dai cortigiani sì sì e le cavano il gelato della calpigiani sì sì stavano anche col pigiama sa ecco per farli ridere perché la vita delle persone potenti abbienti diciamo che rivestono un ruolo importante nella scala gerarchica sociale ecco dicevo sono vite esistenze spesso obnubilate da tanti patimenti turbamenti da tante responsabilità rilevanti ecco pensate a conte 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 adesso non gli tornano i conti ma ne raga noi a chi la racconto questo conto e allora insomma vanno un po in maniera goliardica ecco vanno indotti alla risata che può essere sdramatizzante una situazione tragica ecco allora merighetti merighetti questo è il dizionario 2017 il 17 novembre carlo verdone l'ho letto sul resto del carlino si su essere carlino che non è un quotidiano per lo meno non è soltanto qui del del bolognese ma il resto carlino e ciò che è rimasto del cari gallino dopo la morte ma marina ripa di beana perché questo gallino che era tanto carino è stato affidato alla brambilla e brambilla si è messa assieme anche a uno stallone sì sì lo stallone di demolition man e allora ha trascurato questo cane insomma per darsi a una vita diciamo arrapata lupesca ma dove le pesco queste battute allora ripeschiamo estraiamo cosa allora partiamo dal film celeberrimo diciamo più famoso per antonomasia di carlo cosa ne pensi merighetti in questa decisione del 2017 non ho l'ultima fra l'altro quel cantante ultimo quello è proprio uno che appartiene agli ultimi allora sac bello dobbiamo andare sotto ss di stefan di come dicono qui a bologna socmel di socie di succhia succhiando i miei genitori stanno aspettando la panda sì sì è una macchina in via di estinzione non possono permettersi la bmw allora si sono date al wwf diciamo allora sacco bello sacco bello sacco bello non sono ecco quello pelato di compagni di scuola ma non sono neanche un tipo borioso stronzo come massimo guineve poi massimo guine giro con paolo versi insomma con sabrina ferille poi la grande bellezza diciamo no e che poi diciamo ecco sacco bello scusate un attimo che mi sto riprendendo mi sto riprendendo lentamente diciamo sto riprendendo esistenzialmente socialmente diciamo culturalmente in maniera sinuosa fluida di stedica non lo so allora sacco bello non mi schiame sacco profana allora sacco bello un sacco bello tre stellette secondo merighetti nella roma deserta di agosto enzo poi verdone vi accenerò mi inserirò semplicemente in descrizione bellissimo articolo curato da davide estanzione che curò anche la postfazione di un mio libro la leggenda di lucenti temerare il quale sto attendendo proprio in queste ore le copie personali che mi saranno consegnate qui a cassa ok nella roma deserta di agosto nanni moretti di caro diario no enzo verdone parte per cracovia ma la conquista di donne disponibili ma il suo compagno di viaggio sergio scarpa a malore improvvisa lui scrive proprio così riuscite a leggere improvvisa e no è un italiano un po improvvisato merighetti improvviso e finisce in ospedale va corretto come trovare chi possa sostituirlo intanto ruggero verdone sempre lui membro della sette dei figli dell'amore eterno mentre cerca di fare proselli proselli per strada incontra il padre che prega prega per lui perché questo povero disgraziato che si è affilato forse ai bambini di sette con marco dimitri diciamo no che poi con la spada anacolo anacolo comunque merighetti soffre di qualche problematica dice qui sono un po come lino benfi che fu respinto a un'audizione diciamo non di maria de filippe di di amici ma di principe de curtis fra l'altro l'unico bar aperto momentaneamente in via di corticelle ma io non gelò corticelle sì sì io sono un tipo da bar da sport per l'appunto bambianesco bar dello sport vabbè andiamo avanti la trama la conoscete arriviamo alla critica convinto da sergio leone che lo produrrà verdone si vanta di essere stato il primo uomo sulla faccia della terra aver visto le prime esclusiva di proiezione privata c'era una volta in america tra l'altro non amato molto da merighetti vero affiaccato nella sceneggiatura da leo benvenuti e piro de bernardi portalcino alcune delle macchiette fra l'altro isabella de bernardi fascio a zoccole credo che sia in parentate cioè tutto vedete che poi anche compagni di scuola verdone che lì c'è christian desigre è sposato diciamo alla sorella e che poi nancy brille tanto è bello e lì chissà brilla forse è forse forse è arrivato è arrivato il pecco scusate è arrivato il pecco un attimo un attimo scusate sarà una registrazione molto molto lunga scusate un attimo un attimo si arrivo subito arrivo subito un attimo torno subito un attimo un attimo un attimo un attimo Grazie a tutti. 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 Con una mano, scusate, devo prendere le forbici, scusate. La tagliamo qui, non andiamo avanti. Qui sono il nazista, nichilista e grande dei boschi. Mi taglierò tutti gli ingerini. E' che taglieremo anche le copertine? Vabbè, comunque, comprate il merighetti, è stoncato molti film di Carlo, quasi tutti i film di Sergio, Leone, le istituzioni. Ma che se ne fa al falote con un uomo come me, signore? No, scusate. Ci vuole un'interazione, una mia fisura ermetica fu la mia, fui blindato, segregato vivo, adesso rinato. E' anche comico dei più bravi in maniera sconsiderato, ma anche comico dei più bravi in maniera sconsiderata, intellettuale, romantico. Ecco, però, scusate, abbiamo quasi terminato. So che mi sta annoiando, ma io ho sempre tediato le persone, poi mi hanno assediato. Ma sono troppo forte, doccia alborotalco. Addio. Addio, scusate. Però, con una meno, andiamo. Datemi una mano, datemi una mano, donne. Scusate. Sembra che stia a livello orgasmo. Sto grungando, non sperma. Sudore, sudore. Oh yeah, oh yeah, my fucking god. Oh yeah. Oh yeah, oh my fucking god. Oh my god. Oh mio dio. sono un uomo fragile diciamo bisogna usare come il polistirolo tutte le copie volete la copia autografata queste sono cento copie come da contratto ok se ne sono cento 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 mi attaccassi uomo innocente è venuto bene no? non credete che la posfazione mi sia stata curata da Davide Stanzione andiamo a controllare anche perché stampato è la prima volta che possa io toccarlo con mano posfazione di Davide Stanzione che scrive su Long Take ecco eravamo partiti da Carlo Verdone c'è stato un imprevisto ma inaspettato in maniera brillante in maniera diciamo soddisfacente appagante lei donna mi vorrà essere appaiante? scusate per questa interruzione cerchiamo adesso di calmare gli entusiasmi un po' di moderazione occorre un moderatore non scaldatevi troppo donne clicchiamo sull'articolo di Davide dedicato a Carlo le maschere irripetibili le musiche le malinconie ripeto mi inserirò in description io un uomo iperdescrittivo barocco gotico neo noir romantico erotico eroico sarei dire lucente temerare un uomo intrepido con le donne mai tiepido ok comunque Merighetti ha stroncato molti film di Carlo soprattutto gli ultimi che ma sono curioso ma che colpa abbiamo noi quando veniamo attaccati da questi cinquantenni con la panza piena che non sognano più e allora attaccano i giovani perché ravvisano loro intravedono delle potenzialità enormi enormi gigantesche e allora vogliono desiderano spegnerli ecco infredolirli raffreddarli demotivarli demoralizzarli sono persone più che umorali questi adulti boriosi ripeto la boria la boria l'aurora boreale la rinascenza floreale sono degli uomini oramai spentisi loro raffreddatisi inariditisi e non più induriti allora viaggi di nozze che poi quando uno si sposa matrimonio la tomba dell'amore viaggi di nozze lo famo famo strano ma voi volete parlare di cina di letteratura di cul di cul che culo quella zabbia gli occhi e gli occhi gli occhi gli occhi e gli occhi e i girotondini diciamo gli occhi comunque claudio gerini diciamocelo tu sei da castelli romani tu sei uno che batte diciamo io sono imbattibile come cio wick che nel second fa un culo così anzi dic claudio suicida guarda non voglio neanche spoccare la mano ammazzata l'un bagage bagage baldrac forza anacquata deve essere auto annegata è chiaro torniamo forse a Tony Terville 5 è il numero perfetto vale che tu pur di leccare l'uccella a scavarci Riccardo saresti andato anche con quello youtuber che sta sempre su Instagram adesso ce l'ha pure con Mar sarei stata pure con Rosario Riccardo vale ma quale donna libera libera respiro di Crialese il nuovo mondo ma lo stesso anno vale vuoi un consiglio da me ma che ce ne facciamo di questi registri italiani abbiamo il grande David Lynch lo stesso anno fu onorato mangiato con le ore d'ora la carriera per il e noi concorriamo con il nuovo mondo ma che sono tutti questi sogni utopici utopie 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 vai spogliate Valeria fammi vedere la top fra l'altro sei tu che ti chiami utopie ecco con questo coronavirus è proprio la fine del mondo ehi presidente di che escape from Los Angeles che tu Valeria Tom Cruise Raymond e Hot Shots tu scopi da New York a Los Angeles San Napoli a Sorrento e Davale ubicare per farlo bene io ho interpretato anche Silvio Berlusconi non so come vanno le cose le cose ma tu che cose ti aspettavi mi aspettavo proprio questo Sorrentino ma tu che cosa ti aspettavi mi aspettavo proprio questo ma te possi ne ammazzate possi ma te possi ne ammazzate possi viaggi di nozze si è scordato di viaggi di nozze viaggio 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 di nozze all'italiano ma allora io conosco l'italiano e viaggio di Felicia bellissimo la O di Otranto e quindi dobbiamo tornare indietro nel passato nel dizionario viaggi perché poi c'è la D che viene la D di Domodossola che viene prima della O non saltatemi addosso viaggi di nozze sì però sono un po' lento viaggio di nozze due stellette intatti non è particolarmente amato sebbene sia molto celebrato questo film dai romani no? romaneschi che lì se vamo tu spachi Maurizio Costanzo a marì buona sta buona che a una certa età mi potrebbe venire l'impatto se a cavalli un'altra volta e voi se marì a cavalla che lì io non ho mai capito se marì è una donna ecco che ha questa voce però non facciamo correre la curva sud eh che poi qui invitiamo a Maurizio Costanzo anche Valerio Massandrè eh l'ho scoperto io ecco il disgraziato poteva andare da Marta Flavi la mia ex agenzia patrimoniale viaggi di nozze due stellette Ivano e Jessica scelgono come luna di miele quello che quello 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 che a loro eh sì a loro non quello quello che a loro sembra il massimo un giro per discoteca Verdone che interpreta anche un quarto personaggio il fratello Corroico che sposa Giovannino e Valeriana ma è buona questa Valeriana non è che bisogna prendere una Valeriana che insomma poi ad esempio sono sempre stato fan dell'attrice Valeria Cavallo quella la faceva diventare D'Urcomo Cavallo e doveva un po' calmar torna più semplice film quando si dice quello è un Cavallo un bizarrito episodi alle caricature le sue qualità di attore fregoli fregoli sono indiscutibili anche se la sua capacità di osservare i vizi è diare di un vizio che cerca là Sabrina Friel quello che prepara un buon un piatto di fusile e poi assieme a tutti a tutti questo ciò si spugliò lo scudetto il tricolore il bianco il bianco il bianco il bianco il bianco sto detonando sto esplodendo non mi faccio cazzare anche alle manie più facili gli appariscenti come il telefonino a cui Raniero risponde anche nell'occasione meno adatto Raniero ma ce l'aveva questo Raniero non era quello che stava con non con Luisa Raniero con Giacomo Leopardi all'epoca Giacomo Leopardi non usava molto l'uccello non poteva chiamare quella Silvia il più divertente è il ritratto dei due coatti romani rocchettari ignoranti o vamo strano ripetono come tormentone quando pensano a sesso descritti con qualche bella idea il cellulare nello stivaletto in questo stivalone è una cattiveria che non diventa mai disprezzo insomma il talento è falotico non è scontato eh no quando viene sto libro ve lo dovete comprare anche perché se no non si può mangiare voi dovete stare affaticare e io devo stare a pensare perché sono intellettuale mica mica un burino qualsiasi con davvero vieni a 14 euro è un prezzo accettabile no copertina di Gustave D'Ori dico chi è l'ore chi è l'ore dico ma tantone A come atrocità Doppia T come terremoto tragetti I come il di Dio L come lago di sangue A come adesso vengono spazzano il capocollo Gustave D'Ori di Enigma qui c'è la prefazione vabbè adesso io sono un uomo che spazia sì sì cambia sempre la prospettiva dal punto di vista passa da Verdone Sergio Leone dagli spaghetti western dagli spaghetti le volvole insomma di farlo che c'è una unica insustituibile immaginabile osservare dire un ammettabile superabile come il tonnero mare o no un ammettabile un ammettabile